L'assessore regionale al lavoro Paolo Gatti ha presieduto questa mattina la riunione del CICAS, Comitato di Intervento per Crisi Aziendali e di Settore, che all'unanimità ha deciso nuovi interventi di ammortizzatori sociali in deroga a favore dei lavoratori abruzzesi. Sono a disposizione circa 70 milioni di euro, di cui 30 a favore dei lavoratori dell'area del sisma e 40 milioni per i lavoratori operanti nel resto della regione. 7.000 lavoratori interessati in scadenza di cassa integrazione straordinaria e che potranno accedere a quelli in deroga per 8 mesi, evitando quindi il licenziamento. Introdotta poi la possibilità di accedere alla cassa integrazione in deroga anche ai lavoratori di quell'azienda che hanno ultimato il periodo spettante di cassa integrazione ordinaria. Con le scelte odierne, ha dichiarato l'assessore Gatti, abbiamo garantito per tutto il 2010 la tutela del reddito ad oltre 20.000 lavoratori, dando serenità economica ad altrettante famiglie abruzzesi. Il ministro Sacconi, aggiunto Gatti, ha rassicurato di voler proseguire anche per il 2011 sulla linea degli ingenti finanziamenti per gli ammortizzatori sociali in deroga. Intanto oggi, ha concluso Gatti, abbiamo presentato alle parti sociali le linee guida per il patto delle politiche attive del lavoro a favore dei lavoratori colpiti dalla crisi, con l'introduzione della dote per la formazione liberamente scelta dal lavoratore. L'idea del patto dotato dal CICAS, seppur aperto a contributi, ha già raccolto la piena condivisione.